C'è una roba naturale, un saluto alla ciurma Ciao No, ciurma bentornati, finalmente parliamo ancora di ristorazione, un altro po' di hotel Se spunti da sotto è molto divertente Andate, andate Siamo di capelli Siamo Ciurma bentornati, finalmente parliamo un po' insieme di ristorazione Siete anche John, bentornati Con 6.118 camere il First World Hotel in Malaysia si accredita il titolo di hotel più grande del mondo Al suo interno si trovano un parco divertimenti, un multisala e addirittura un casino Il primato per l'hotel più alto del mondo spetta al JW di Dubai con 355 metri di altezza Peccato che negli anni qualcuno ce l'ha avuto un metro più lungo E sto parlando dell'hotel Jevora di Dubai che si attesta come l'hotel più alto del mondo ad oggi con 356 metri La suite più grande del mondo si trova in Libano ed è all'interno del Grand Hills Hotel Pensate, sono 4131 i metri quadri di questa suite disposti su 6 piani di struttura Più ovviamente, per non farsi mancare nulla, ha un giardino e una bella piscina esterna privata Lo sapevi che a Taos ha sede l'Hershi Biotector Una struttura dotata di pannelli solari per l'autosostentamento dell'energia elettrica E soprattutto un incredibile sistema di filtraggio delle acque grigie Così da poter essere completamente eco-sostenibile ed eco-friendly La suite più costosa al mondo si trova all'interno del President Wilson Hotel Stiamo parlando della Royal Penthouse Una notte costa 48.000 euro Lo Chateau Frontenac a Quebec City risulta da sempre l'hotel più fotografato nella storia L'Iat Regency di San Francisco ha la lobby più grande del mondo È alta 52 metri, largo 49 metri e lungo 107 metri Ma in Italia c'è uno degli hotel più costosi al mondo? Sto parlando del Cala di Volpe In Sardegna si posiziona nella top 10 degli hotel più costosi in tutto il globo Peace, lasciate un like, iscrivetevi, mettete mi piace, fate tutto quello che dovete fare Noi continuiamo a portarvi tante news sul mondo dell'hotellerie e della ristorazione Ci sentiamo presto, ciao! Poverdissimo! Ci sta però! Ok, vai! Che ti devo dire? Stiamo parlando della Royal Penthouse di Ginevra Dai, la parla così, mettiamola così, dai! È lungo L'ho sputato? Una notte Oh, dai! Una notte costa Una notte costa 48.000 euro Dilla un po' più felice Una notte costa 48.000 euro Una notte costa 48.000 euro 48.000! Beautiful disaster Peccato che qualcuno ce l'aveva un metro più lungo E l'hotel Gevora di Dubai si attesta come l'hotel più attimo del mondo ad oggi È molto breve È vero È vero Ce l'aveva un metro più lungo Gli hotel più costosi del mondo sono... Ah, ok Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.